Da un lato i campi flegrei, in evidente e costante attività, dall'altro il Vesuvio, gigante e dormiente che raramente dà prova di non essere del tutto sopito, e poi il Monte Pomeo, sull'isola di Ischia. La Campania è una terra vulcanica, ma nonostante le loro prossimità, il cratere vulcanico, quello flegreo e quello isolano, hanno in comune poco oltre il loro posizionamento geografico. Costantemente monitorati dall'Osservatorio Vesuviano, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, i tre hanno diversi livelli di allerta. Per i campi flegrei, anche dopo i forti sciammi sismici degli ultimi tempi, l'allerta resta medio-bassa, associata al colore giallo. Lunedì lo sciamme sismico più lungo e intenso degli ultimi 40 anni, con oltre 420, la cui magnitudo massima ha toccato i 4.4 gradi. Quanto al Vesuvio, lo stato di allerta associato al Titano che sorveglia Napoli da sud-est è verde. 125 le scosse registrate nel mese di aprile, nelle cui settimane si è registrato anche un picco di magnitudo di 3.1 gradi. 71 i sismi rilevati nel mese di maggio finora. Le ultime rilevazioni dei sismografi sull'isola di Ischia, invece, sono distanti fra loro. 0,7 gradi l'8 maggio 2024, un grado il 28 dicembre 2023 e poi ancora un grado a ottobre, 1,8 a maggio e 0,5 a febbraio dello scorso anno. Se da un lato questi dati lasciano che i livelli di allerta restino verdi anche qui, dall'altro non escludono che il vulcano Eschitano sia attivo e possa ancora produrre eruzioni. Morfologie diverse, comportamenti differenti. Vivere nel territorio di Napoli nella sua provincia significa anche tenere gli occhi aperti rispetto alle caratteristiche del suo territorio. Creare allarmismi e diffondere false notizie, come chi dà per vero un collegamento tra Vesuvio e Campi Flegrei, non fa che alimentare il panico e la vaura, nemiche del quieto vivere. Le uniche notizie sempre affidabili in merito ai vulcani della nostra terra sono quelle diffuse dall'Osservatorio Vesuviano.